Rinaldo, buonasera, benvenuto, ben trovato sul mio canale per una volta tanto, insomma. Buonasera Enrico, grazie, grazie per avermi ospitato, è sempre un piacere. Guarda, se non fosse per il tuo europeo e questa curiosa tua mania di seguire l'europeo o altre competizioni, tu saresti ospite molto più spesso, così come vorrei, infatti mi auguro, e questo è l'invito formale che ti faccio, che da agosto, insomma, o settembre, perché tu vai in vacanza? Io vado in vacanza, ma più in là, più in là, quindi ci sarà tempo. Più in là con gli anni, quindi ho aspettato quel momento lì, poi potremo... Non so bene cosa sia vacanza, però mi sto informando. In realtà lo sanno i calciatori del Milan perché ci andranno, soprattutto quelli che finiranno l'europeo, i nostri tre giocatori rimasti, mi sembra, no? Sono Reinders, Theo e Mignanna. Sì, esatto. Non ne abbiamo più sparsi. Più gli americani hanno finito, quindi sono già in vacanza e adesso ovviamente si godranno qualche giorno, ma non mi pare che ci sia un granché di fretta al Milan per radunare i ranghi. Oggi però ha parlato Ibrahimovic e ti chiedo, in questa sua conferenza stampa, anche se lui ha chiaramente chiarito che si parlerà e si riceveranno le domande per quanto riguarda la prima squadra dall'otto, quindi dal lunedì, dal fatidico giorno del raduno, con i volti che poi vedremo chi saranno. Però ha parlato di Under 23 che sembra un tema effettivamente cruciale in questo momento. Come vi dico, per esempio, battezzo bene questa storia dell'Under 23 perché romanticamente la considero un'operazione importante se non diventa un modo per creare un valore da rivendere, ecco, insomma. Se è un valore in sé, per la squadra ne sono felice. Cosa ne pensi tu? Allora, diciamo che anche nel caso peggiore, cioè che si volesse creare qualcosa per poi rivendere, l'importante è che si rivendano non quelli buonissimi, che si rivendano quelli buonini, che possano fare mercato con quelli e che quelli buoni invece arrivino in prima squadra. Io sono rimasto sorpreso, piacevolmente, dalla conferenza di oggi, dalle parole di Ibra, perché intanto si è parlato di pallone e questa è già una cosa strana. Non si è parlato di bilancio, non si è parlato di cash flow, non si è parlato di nulla, di impacchettamenti. E quindi questa è una cosa che mi ha fatto piacere perché ci ha spiegato, diciamo, con il suo linguaggio in ibraese, ci ha spiegato che cosa vogliono fare, qual è il progetto. Ed è un progetto interessante, secondo me, perché consente di avere un bacino dal quale attingere, nel caso in cui riuscissimo, e questa è la speranza, a formare dei giovani, di valore. Un bacino di più o meno 50 giocatori tra prima squadra e seconda squadra, in teoria. Esatto, un ottimo bacino che lavoreranno a stretto contatto, nel senso che la filosofia, detto, dell'allenatore, o comunque dell'area tecnica, sarà la stessa per entrambi, anche questa è una cosa positiva. È una cosa che ricalca quella di altre scuole, di altri club, che fanno già da tanto tempo questo tipo di... La cosa buona è che potremmo avere, anzi, potremmo avere, diciamo, gli stessi schemi applicati e quindi la capacità di inserimento. La cosa brutta che potrebbe spaventare, nel caso di epidemia e di infortuni, da una parte è garantito averla anche dall'altra, insomma. Cioè, nel bene o nel male, fai copia e incolla. Ma dato che noi siamo ottimisti di natura, vogliamo sperare che quest'anno ci sia un cambio di tendenza, anche su quella cosa lì, insomma. Due cose chiediamo quest'anno. Un po' di salute, come si fa Dio nelle preghiere, e anche un po' di fase difensiva, un po' di equilibrio di squadra. Quindi questi sono i due appelli per Mr. Fonseca. Tu su questo sei abbastanza positivo sul fatto... Anch'io lo sono, nel senso che io ritengo Fonseca un upgrade rispetto a Pioli e ritengo che sia un allenatore con maggiore esperienza e, secondo me, una maggiore quadratura tecnica, un maggiore equilibrio tattico, scusami, non tecnico. Da questo punto di vista sono fiducioso. Poi, se questo riuscirà a fare la differenza sui nostri giocatori e che sia l'allenatore effettivamente giusto per la nostra squadra, su questo, onestamente, sono meno sicuro di Ibrahimovic. Tu come la pensi? Io credo che in questo momento arrivare dopo la stagione di Pioli sia una fortuna per qualunque allenatore. Nel senso che abbiamo visto quali sono i nostri problemi, l'abbiamo visto dal punto di vista di Rosa, dal punto di vista di stare in campo. Pertanto chi arriva può solo... Aspetta, questa è una frase molto, molto ottimistica. può solo fare meglio, ma quel può solo fare meglio vuol dire intanto riguardarsi i derby, visto che abbiamo scoperto oggi che alla quinta c'è il derby. Esatto, infatti, questo è un nodo cruciale perché alla quinta, così come l'anno scorso, mi pare che fosse alla terza di campionato il derby, o giù di lì, alla quarta, alla quinta ti può praticamente rompere il giocattolo, come poi successe l'anno scorso. Quindi è molto delicato. Certo, quindi riguardarsi i derby. Questo è il primo compito di Fonseca, spero l'abbia già fatto. E dopodiché, anche sulla questione di infortuni, io credo che, insomma, si sia... Già nella seconda fase di stagione abbiamo visto un cambio di tendenza su questa cosa, ma anche perché peggio di così, cioè, erano tutti morti, quindi già se ne salvi uno hai fatto risultato. Spero, mi auguro, anche in funzione, come dicevi tu, dell'Under 23 che si possa fare un lavoro di grande attenzione da un punto di vista atletico perché questo è stato un grosso problema l'anno scorso. Poi, praticamente, scusami, per capire, i preparatori però della prima squadra devono comunicare i propri metodi ai preparatori della seconda squadra o sono gli stessi preparatori, perché non è che erano preparati tutti insieme, suppongo. No, anzi, si parlava addirittura di un lavoro individuale per molti giocatori, quindi ci sarà uno staff, credo, ben nutrito che seguirà le cose da una parte e dall'altra. Ovviamente quello della prima squadra farà capo a Fonseca, a questo punto credo anche quello dell'Under 23, visto che si parlava di questa sinergia tra le due rose. Speriamo, ma secondo te loro, rispetto allo scorso anno, avranno capito la tipologia di preparazione sbagliata? Cioè, un discorso è allontano il preparatore atletico e mi affido a un altro che mi spiega qual è il suo metodo, però in realtà bisognerebbe cercare di capire qual è stato l'errore dell'anno scorso nella preparazione atletica, onde andarlo ad evitare, perché se non è chiaro dove è stato sbagliato, se non è stata fatta un'analisi, abbiamo lavorato troppo sulla forza e quindi sui muscoli corti, dico delle cose a caso, no? E quindi abbiamo avuto un certo tipo di infortuni agli adduttori, oppure viceversa abbiamo capito che l'errore è stato in quest'altro tipo di preparazione. Cioè, questo secondo me è un nodo cruciale. È un nodo cruciale, ma si lega molto, dal mio punto di vista, all'allenatore. Nel senso che il gioco di Pioli è sempre stato un gioco molto dispendioso, è stato un gioco che ha richiesto sempre un sollecitare da parte dei ragazzi. Tanta corsa. Tanta corsa, avanti e indietro. E per preparare quel tipo di gioco, ora io non sono un medico, non sono un preparatore, quindi parlo un po' per sensazione e per quello che ho letto. Preparare quel tipo di partita, quel tipo di tattica, è una cosa che richiede una rapida consulzione muscolare. Guarda, ti ho inventato un gergo medico. Pertanto, se, come si scrive, Fonseca opterà per una soluzione un po' più di palleggio, quindi un Milan meno isterico, ma più giochista, ovviamente senza scadere in Montegliano e in memoria. Però sei, correndo meno a vuoto, perché tanti giocatori, vedi anche Reinders, correva tantissimo a vuoto. Non è stato questo. Sì. Tanto a vuoto. Tra l'altro la curiosità di Reinders è che proprio in questi giorni ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti che fanno capire come Rossi sia utilizzato malissimo l'anno scorso. Per cui ha detto, io sono un centrogampista a cui piace andare in corsa per inserirmi box to box, come si dice. E noi l'abbiamo fatto fare il box to box, solo che l'abbiamo fatto fare per 60 metri su 90 di campo. E quindi capisci bene che a lungo andare... Su una squadra lunga e non corta. Esatto, esatto, infatti. Quindi ci sono molti aspetti legati a questa avventura di Fonseca rispetto alla quale io parto con un discreto ottimismo o comunque il rispetto per un allenatore che è giusto e abbia credito perché è un progetto nuovo ed è forse l'unica cosa in questo momento che ci affascina perché mercato niente. No, ma infatti ti faccio una domanda ancora prima del mercato. Tanti dicono che la squadra dell'anno scorso allenata diversamente avrebbe reso in una maniera diversa. Io anche sono d'accordo su questo ma la domanda che ti faccio è quanto oggi la stessa squadra mantenendola così com'è? È chiaro che è un pur parlet perché non hai più Giroud perché hai perso Kier quindi hai perso già per esempio il nodo centravanti è un nodo cruciale però immaginando di avere appunto un centravanti qualsiasi che vada bene gli stessi giocatori rispetto a come si stanno rinforzando le altre squadre con i valori in campo ma teorici secondo te come e quanto? Riuscirebbe a garantirsi la seconda posizione secondo te? Secondo me a parte che questo è un tema del quale si è discusso praticamente per un anno nel senso che c'era una corrente di pensiero che voleva Pioli come unico responsabile perché se noi pensiamo che la rosa sia stata in un certo senso tarpata dal nostro allenatore e che quindi questa rosa sia un qualcosa che non meriti i 20 punti di distacco No, no, certo ma su questo noi siamo allora la pensiamo nella stessa maniera quindi cioè siamo per lo scarico di responsabilità su tanti quindi è ovvio che per noi la squadra ha delle enormi lacune ma io proprio ti chiedo il ragionamento in base alle lacune cioè potendo al netto delle lacune potendo aggiungere però quel plus valore dei giocatori messi in campo bene magari nelle loro posizioni e facendo le cose giuste e appunto non buttati a caso oggi arriverebbero al secondo posto con i valori in campo di oggi non della stagione scorsa ma con gli avversari di oggi con gli avversari proprio di adesso di adesso con gli avversari di adesso proprio per come siamo messi adesso noi intanto non abbiamo fatto nulla quindi per come siamo messi adesso è una bella domanda ed è anche piuttosto difficile cercherò di essere breve nella risposta ti dico la mia opinione io credo che questa sia stata una squadra costruita per fare un certo tipo di gioco questo tipo di gioco noi non l'abbiamo mai visto perché perdonerai il controsenso questa squadra non è stata costruita per fare quel tipo di gioco di conseguenza trovare una quadra con questa rosa è un lavoro sul quale Pioli ha provato a investire tempo per poi rinunciare e arrivare alla fatidica frase dobbiamo fare un gol più degli altri perché perché il compromesso è stato quello di avere una squadra che segnava molti gol ma prendeva molti gol ora la domanda è la domanda successiva alla tua è questa squadra è in grado per come è strutturata adesso nel campionato che verrà di trovare un equilibrio cioè di riuscire a non prendere gol ma continuare ad avere una produzione offensiva di quel livello perché è questo che mi sono sempre chiesto cioè noi abbiamo fatto tanti gol è vero li abbiamo fatti diciamo contro avversari minori perché poi nelle grandi partite insomma anche la fase offensiva ha un po' pagato pegno a parte quella con i Paris Saint Germain che è stata probabilmente la migliore partita della stagione quindi io mi domando anzi posso permettermi di fare io una domanda a te ah devi perché voglio sapere come la pensi secondo te c'è il modo di trovare l'equilibrio e quindi non perdere il nostro potenziale offensivo ma prendere meno gol con questa squadra oggi e secondo me questa squadra ha delle lacune che restano quindi vanno assolutamente colmate cioè serve il mediano serve secondo me un centrale un investimento su un centrale difensivo che sia un mancino serve una costruzione dal basso che sia efficace serve secondo me un lavoro di difesa complessiva che però ecco con Fonseca sicuramente può arrivare quindi da quel punto di vista possiamo avere un miglioramento anche nella parte offensiva perché per quanto noi abbiamo segnato molti gol io non credo che la fase offensiva del Milan questo è il mio pensiero fosse così tanto efficace nella sua organicità ma fosse una fase offensiva abbastanza come dire estemporanea tant'è che per molte partite noi abbiamo proprio avuto la sensazione di essere innocui cioè di non riuscire proprio mai a segnare e a scardinare poi magari ne facciamo cinque con squadre più deboli insomma però secondo me qualcosa mancava secondo me oggi non puoi basarti sul flop di troppe squadre cioè non puoi puntare questo campionato su troppe variabili il Napoli secondo me non sarà il Napoli dello scorso anno io credo che la Juventus sarà la principale avversaria dell'Inter e secondo me secondo me non voglio dire una fesseria ma secondo me al momento se poi riescono a concretizzare anche le ultime operazioni poi bisogna vedere anche l'Inter che tipo di mercato continuerà a fare al momento mi sembra la squadra più attrezzata e con un centrocampo impressionante noi siamo indietro cioè noi ancora non abbiamo fatto nulla questo è un tema che adesso andremo a toccare però questa squadra ha proprio delle lacune in luoghi cruciali e secondo me andare poi a sostituire un Calabria che è un giocatore di poca qualità di tanta corsa di tanta energia tanto dispendio e tanta passione quello sicuramente mandarlo a sostituire con e magari non rinnovarlo proprio perché il rischio è proprio che non si arrivi a rinnovare con Emerson Royal which is onestamente a me fa abbastanza fa paura perché non fai un upgrade anzi rischi secondo me con Emerson rischi addirittura il downgrade su Calabria se hanno ragione i tifosi del Tottenham è un downgrade allora guarda adesso ti dico una cosa su Emerson prima permettimi di rischiare hai parlato di rischio adesso voglio rischiare e voglio correggerti vai ti correggo perché tu nel bellissimo video che hai fatto ieri che bello quel video che bello quel video hai detto la Juventus ha fatto il mercato che avrei voluto che facesse il Milan cioè ha preso Douglas Lewis ha preso Kefren Turam sta lavorando allora io mi permetto di correggerti dicendo questo è il mercato che avrebbe dovuto fare Milan l'anno scorso perché nel momento in cui tu decidi e quest'anno arriverà probabilmente a compimento la cosa di ristrutturare diciamo perché se dici disintegrare poi ti dicono che sei pessimista ristrutturare il centrocampo perché abbiamo perso che sì progressivamente c'ha la Noglu che sì tonali quest'anno benassero ok se tu decidi di farlo lo devi fare con dei giocatori importanti quelli che ha preso la Juventus secondo me seguono le idee dell'allenatore e sono giocatori importanti ma Douglas Lewis era nel mirino del Milan qualche anno fa poi dopo insomma non se ne fece giustamente giustamente perché credo che tra i prendibili su quella cifra fosse il migliore cioè tu devi ragionare anche rispetto al budget non devi ragionare sul valore assoluto ma sul valore assoluto relativo al budget e devi ragionare anche su chi gestisce il mercato nel senso non vuole essere la solita battaglia sul fatto che noi non abbiamo un DS però notizia noi non abbiamo un DS e un direttore sportivo serve a questo cioè a costruire le operazioni che ha fatto la Juventus perché secondo me quella di Douglas Lewis è un'operazione ottima dal punto di vista ma anche per me Rabiot che va in sostituzione con 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 l'eventuale Turam cioè nel senso è una è un'operazione buona perché ti consente di prendere un prospetto che per 4 5 anni ti fa la differenza ti può fare cioè deve hai un margine di rischio molto più basso perché in quel range e tra i prospetti è sicuramente è sicuramente il migliore e quindi è quello su cui dovrebbero andare in tanti ecco posso dirti una cosa io credo che ci sia la bravura del direttore sportivo vabbè adesso è inutile perdersi in retorica però secondo me c'è anche un aspetto importante che è l'aspetto della visione cioè io so che molti direttori sportivi cosa fanno organizzano dei trasferimenti per la stagione successiva questa è pratica abbastanza consueta quindi fermano in un certo senso un giocatore magari con accordi con il suo procuratore per fargli avere qualcun altro o per prendere anche qualcun altro e programmano programmano le stagioni purtroppo quello che traspare dai nostri è questo cioè che manca la programmazione perché adesso sconfido un attimo il mercato poi ne parliamo dopo però questa cosa ci tengo perché oggi è uscita la notizia che Milano sarebbe su Morata allora dopo aver passato settimane su Zirze un paio di giorni su Lukaku che comunque è grosso ci si sta in tanti adesso Morata sa sa di di scarsa programmazione e sa delle ultime ore del mercato allora io ho voluto credere con tutto il cuore che fossero manfrine queste nel senso uscita la cosa di Zirze che è stata fatta uscire evidentemente da qualcuno di casa Milan pensavo che fosse davvero l'obiettivo che ci stupissero adesso che sembra svanito tutti i nomi che escono sono dei nomi che tra l'altro vanno in conflitto l'uno con l'altro quindi non si capisce quale sia questo anche io lo dicevo già da da maggio che venivano affiancati i nomi con caratteristiche quando c'era la famosa rosa era prima era subito dopo la conferenza di Ibrahimovic quando diceva che c'era una rosa di attaccanti più o meno i nomi li sapevamo anche perché sono quelli non è che sono non è che ti puoi inventare dal mazzo tirar fuori qualcuno che non c'è perché veramente vuol dire che sei andando a caso sì e non sarebbe comunque una mossa da Milan in quel caso però avevano tutti caratteristiche profondamente diverse quindi la domanda era ok ma su che modulo su quale noi in realtà oggi non sappiamo se sarà 4-3-3 o 4-2-3-1 tu sai qualcosa più di noi tra l'altro chi dice chi mi interrogavo la scorsa settimana proprio su questo davano in diversi Corriere dello Sport mi sembra la Gazzetta non mi ricordo chi il Milan il 4-3-3 con cui giocherà Fonseca con Loftus-Cic dietro il Puma chi ve l'ha detto cioè la domanda è anche perché poi il Fonseca di Roma è molto diverso dal Fonseca di Dill sì sì sono due allenatori diversi per il che ci fa ben sperare nel senso che evidentemente una certa duttilità una certa elasticità lo dimostra dimostra di avere però non sappiamo niente speriamo di scoprirlo lunedì mi permetti una piccola cosa tu sei tu sei un esperto di comunicazione tu sai come si comunica e io vorrei fare questo tipo di osservazione per conoscere anche la tua opinione io credo che ci sia ci sia un problema di comunicazione per il Milan cioè Ibrahimovic oggi ha detto noi non parliamo se non abbiamo cose importanti da dire ma qui il problema della comunicazione non è verso noi il problema della comunicazione è verso i giornalisti cosa intendo dire intendo dire che sappiamo che da casa Milan esce pochissimo quel poco è molto orientato nel senso che lo si dà alle persone giuste per far arrivare un certo tipo di messaggio ora dato che il mercato è insomma anche una componente di sogno una componente di attesa di speranza di illusione almeno quando eravamo giovani era così poi dovrebbe essere così anche adesso no lo è il motivo per cui poi ti avveleni se non succede niente se vedi che il mercato da sogno magari lo fanno gli altri insomma allora tu dovresti secondo me tua società dovresti indirizzare la comunicazione ma non dicendo prendiamo Holland prendiamo non lo so che giocatori no ma non lasciando ai giornali il compito di scrivere ogni giorno un nome diverso per l'attacco un'informazione diversa che crea poi un po' di confusione e anche un po' di malumore e ti fa sembrare che non che non abbiano le idee chiare non so se sei d'accordo però scusami io ieri rispondevo a degli utenti che commentavano dicevano eh vabbè ma queste voci poi si sa che sono stupidaggi e dicevo ok però come mai quando si tratta della Juventus le voci sono vere cioè ti dicono Douglas Lewis ed è Douglas Lewis e lo fanno ti dicono non so Kefren Turam e poi è vero e fanno Kefren Turam dicono Di Gregorio ed è Di Gregorio allora perdonami cioè non è che la stampa è una stampa diversa con questi cioè il bacino è lo stesso e soprattutto la qualità del giornalismo è la stessa quindi allora c'è un problema di c'è un problema di comprensione cioè io non ho esperienze giornalistiche ma da 800 mattine faccio la rassegna stampa in 800 mattine ho imparato sono un'autodidatta ma ho imparato un po' a orientarmi nel senso che ho capito che alcune cose sono più vere di altre ma non è che tutto quello che esce sui giornali è bugia c'è una parte di verità ma questa parte di verità è per l'appunto diciamo imbeccata da chi voleva che si sapesse questa cosa anche Ibra ha detto che ovviamente alcune voci vanno in giro perché è messa dal procuratore che cerca di sbloccare affari o altro ma lo sappiamo perfettamente però quando poi vedi che la voce solitaria cioè fa ridere quando leggi il feed per esempio ce l'ho qua sotto di Milan News tu leggi e vedi che c'è la notizia e la notizia subito dopo è la smentita di quella notizia comparvenza ufficiale capito e fa ridere cioè ti dice Morata al Milan e poi la notizia dopo Morata Morata rinnova con anche peggio nello stesso giorno il Milan è molto vicino a Lukaku Lukaku ha l'accordo con Napoli nello stesso giorno perché tu sai che quello lì è casaccio però tu vedi qual è la firma vedi qual è la testata ci sono diverse cose il punto è che non dici bene tu questa comunicazione è una comunicazione molto farraginosa della nostra società perché non è affinato non sembra coordinata sembra assolutamente scoordinata perché hai Scaroni che se ne esce con una frase così a cavolo che sembra nonno a Natale che ubriaco dice la roba contro la nuora capito magari lo fosse magari fosse Natale magari fosse ubriaco sarebbe la scusa invece è lucido e sta dicendo anche la verità quello è il problema e poi hai il frontman che tra l'altro va bene che è Ibrahimovic che affida la comunicazione al calmati di Instagram che è una cosa veramente da ultimi del mondo cioè non può quella essere alla comunicazione del Milan e se tu vuoi dare il segnale o il messaggio di calmarti cioè dovresti dire Ibra e lo dicevo nel video di ieri hai un ruolo ufficiale adesso hai un ruolo ufficiale con un fondo importante che non può prevedere il calmati sulla tua pagina Instagram a petto nudo perché è una cosa da folli o 433 su un telefonino cioè non sono ok allora sottoscrivo quello che hai detto ieri nel video naturalmente perché anch'io la penso così e credo che Ibra abbia grossi problemi con se stesso nel senso che ci sia in lui questa parte che non vuole lasciare il personaggio giocatore diciamo che ha problemi col grosso se stesso sì esatto esatto e quindi c'è questo è distopico metà di lui vuole convincere l'altra metà di lui che adesso è un dirigente e non più un uomo da social e un calciatore fondamentalmente sì c'è questo tema della comunicazione io a parte il fatto che abbiamo scoperto quando c'è stata l'indagine abbiamo scoperto anche delle varie agenzie di comunicazione una che gestisce Jerry una che gestisce Scaroni una che gestisce quella cioè c'è un po' di confusione c'è un po' di confusione e quello che ne esce purtroppo per molti tifosi per molti tifosi è un po' di di ansia un po' di ansia no? perché fino a qualche giorno fa si diceva nessuno ha fatto nulla ancora adesso però le altre cominciano a fare non è vero l'Inter aveva già presi due il Napoli sta per chiudere per buongiorno insomma le altre si stanno rinforzando ma soprattutto lo stanno facendo con nomi importanti noi siamo per chiudere l'affare Royal Witches che è devastante perché è un giocatore che viene preso in giro dalla sua stessa tifoseria perché non sa fare niente non sa difendere non sa attaccare ok c'è un coro sul sul buon e tu dici vabbè ma perché e soprattutto vabbè ma tu lo capisci del fatto che non ci sia già l'attaccante che era un problema latente sono cose che non mi va neanche di stare qui a ridire perché ormai l'abbiamo già comprese e non è un discorso di ottimismo o di sfattismo sono proprio dei dati di fatto cioè se tu sai che devi cambiare casa cambi casa non il giorno prima del trasloco non capisco perché tu abbia tirato fuori questo esempio perché ti avevo davanti mi sembrava assolutamente calzante però c'è un problema sul quale vorrei chiedere la tua che è il problema del budget di questo budget apparentemente sparito ci si arrovella non solo noi i giornalisti e tutti si fa i conti proprio con la matita all'orecchio e si calcola bene il tesoretto da Decaytelare che abbiamo e poi c'è quest'altro e i soldi di Sademakers e poi la Champions 120 milioni ok ognuno più o meno ha una cifra diversa però più o meno sono sempre 120 e poi ti rendi conto che non vengono spesi cioè questo è un budget che sembra sparire è un budget sparito allora o questi soldi spariscono realmente per altre voci perché altrimenti non si spiega come oggi per esempio titolavano i 10 milioni di pioli risparmiati di pioli sbloccano l'affare e io impazzisco a me esplode il cervello quando leggo queste cose quindi devo assolutamente autoconvincermi in maniera zen che quello che sto leggendo sia un'idiozia del giornalista di turno però come la vedi questo discorso del budget sembriamo bloccati sembriamo bloccati che non ci sia neanche veramente la possibilità di spendere 5 milioni allora se il mio macellaio facesse i conti come li ha fatti in Repubblica oggi avrebbe già chiuso questo è poco ma sicuro quella è stata un'enorme sciocchezza credo la più grossa sciocchezza che ho letto in questa sessione di mercato ma siamo al 4 luglio c'è tempo per far peggio partiamo da un punto tra l'altro auguri a tutti gli americani io li ho già fatti oggi nella mia diretta ma colgo l'occasione grazie per rifarli di grande cuore gli ho anche dedicato un video ieri soprattutto agli americani a cui noi vogliamo bene certo certo che bello che bello il 4 luglio how beautiful esatto allora partiamo da un presupposto per arrivare poi ai soldi ai quali bisognerebbe sempre arrivare per capire tutto quello che fa Redbird attenzione normalmente si parte nelle indagini dai soldi si seguono i soldi ma non voglio essere malizioso allora che cosa c'è stato riferito riguardo al mercato di questa estate che sarebbe stato un mercato per puntellare questa è la parola chiave puntellare quindi cosa significa significa che i nostri dirigenti ritengono che la rosa che rimarrà quindi al netto delle cessioni è una rosa di livello è una rosa che ha raggiunto il secondo posto perché è altamente competitiva e quest'anno verranno fatte delle operazioni diverse nel momento in cui è uscita tutta la manfrina su Zirze in molti incluso sottoscritto pensavano che l'andazzo fosse diverso quest'anno cioè che si fossero concentrati per spendere spendere sulla punta sulla punta anche allargando quelli che sono quelli che sono i loro orizzonti della spesa anche perché scusa Rinaldo c'è una cosa fondamentale siamo in crescita collattivo quindi progressivamente tu ci hai promesso che avresti speso sempre di più ogni anno perché altrimenti non ha senso alzare le coppe del bilancio no no allora questo non è vero nel senso che nel senso che rilanciava tutto sport oggi il fatto che il Milan appunto ha una situazione di bilancio molto buona invidiabile eccetera eccetera ma che aspetta lo stadio per fare quel passo in più ora io che vengo ma lo stadio che vuol dire la costruzione e l'attivazione dello stadio no 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 e no la messa la messa in moto cioè il 2029 quindi lo lanci nel 2029 prima che inizi a fare attivo su quello il 2030 devi rientrare dal miliardo erotti di investimento e poi devi cominciare a fare attivo ti do una misura il Tottenham adesso che è a pieno regime fa circa 5 milioni di sterline a evento ok quindi poi i conti ognuno se li fa a casa con la circolatrice non fateli come Repubblica però se no li sbagliate ok quindi nel momento in cui ci hanno detto i zigzag tutti pensavano eh accenti quest'anno vuol dire che vogliono investire che vogliono fare qualcosa di importante dopodiché sono usciti i soliti nomi cioè nomi da 15 20 il Milan non vuole spendere più di 20 25 con i bonus no ma si vede anche come tirano indietro sul prezzo su tutto cioè non vanno mai non vanno mai forti non vanno mai forti sul giocatore tirano indietro sul prezzo anche su cifre più basse questo è il punto e allora ci siamo resi conto che alla fine due cose che loro ci hanno detto sono vere perché ripeto una cosa che ripeto spesso ma voglio dirla anche qui se c'è una cosa di cui dobbiamo essere grati alla nostra proprietà è che ci hanno sempre detto le cose poi sta a noi accettarle e capirle ma ce l'hanno sempre detto quali sono le due cose importanti la prima è quello che ha detto Furlani alla Gazzetta dello Sport qualche mese fa se ho 100 non ne metto 80 su un giocatore la seconda anzi sono tre perché la seconda ce la dice sempre in quell'intervista cerchiamo un certo tipo di profili leggi Moneyball quindi qualcuno a mezza carriera che venga da noi gli infelici gli infelici gli infelici del pallone sì quelli che non hanno trovato la loro il second life esatto esatto Emerson è esattamente questa cosa qua e poi la terza cosa la più importante è quello che ci ha detto Cardinale il cash flow allora tu hai parlato ieri del fatto che secondo te te o dopo l'europeo potrebbe andarsene tu hai questa sensazione non lo so potrebbe potrebbero anche vendere Benna Serra e Ciao per dire io ho l'impressione infatti che quello potrebbe però nel senso cioè questi qui fanno partire il mercato se vendono questo è il cash flow ho capito ma il mercato dovrebbe partire il mercato dovrebbe Enrico il mercato doveva partire a ottobre è uno scam cioè questo qui è uno scam è una truffa così dai così è truffa perché vale sempre tutto cioè la logica chiederebbe altro vuol dire che tu hai fatto più utili la proclamazione chiederebbe altro certo tu hai fatto più utili dello scorso anno e quindi sei inattivo e poi permette che è quello che diceva Elliot inizialmente allora evidentemente il piano tra Elliot e Edward è cambiato sì e no ma certo che sì e no certo che sì e no perché comunque vengono tirati per la giacchetta da Elliot se no non sarebbe Furlani lì però qualcosa è cambiato perché rispetto al piano iniziale che era il piano su cui aveva abboccato anche Maldini mi dispiace dirlo aveva abboccato lui come tutti noi l'idea era quella appunto che poi vado veramente a puntellare ma puntello con più risorse perché ho migliori piazzamenti perché ho migliori risultati sportivi perché genero qui però entri in un loop nel senso che per seguire la politica che ci è stata raccontata la scorsa estate e quindi per comprare un determinato numero di giocatori causa cash flow che vuol dire sostanzialmente prima vendo in tasco compro e metto un pochino di mio player trading questo lo stato puro questo è un tu lo chiami cash flow tu lo puoi chiamare cash flow quanto ti pare ma è player trading è Jerry che lo chiamo non voglio no no tu 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 Jerry you 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 Jerry you you allora il loop qual è il loop è che se tu adotti questa politica non puntelli perché per puntellare devi tenere i migliori giusto ma è chiaro ma vuol dire che devi aumentare anche gli spendi vuol dire che esatto che devi aumentare quello che è il payroll cioè questo non lo puoi fare con il salary cap lo puoi fare se decidi di aumentare i costi per la squadra sappiamo che noi siamo non siamo bene nel rapporto tra fatturato e percentuale tra fatturato e costi che noi paghiamo per la squadra anzi siamo tra i più bassi della serie A loro in questo momento hanno raggiunto lo stesso livello di payroll quindi di costi totali di rosa tra mortamenti cartellini eccetera dell'anno prima con le partenze di Kier e con le partenze di Giroux ora tutti noi come dici giustamente tu a fronte di una situazione florida ci aspettiamo quel balzo in avanti ma quel balzo in avanti secondo me non arriverà ok ma allora è sbagliata però la politica scusa Rinaldo sto interrotto è sbagliata la politica perché devi allora se quello resta il budget perenne permanente se la logica è quella del cash flow quindi pochi soldi 40-50 milioni per fare il mercato vita natural durante fino a che non non vedremo uno stadio attivo pieno e in pieno esercizio anzi già un po' rovinato devi allora necessariamente avere un DS e devi necessariamente fare un tipo di mercato di scoperta e valorizzazione di talenti assoluti su cui vai fortissimo perché li trovi prima degli altri allora devi essere devi essere una squadra non Redbird ma Red Bull cioè devi completamente impostare la squadra in una maniera diversa altrimenti altrimenti questa è soltanto una macchina da soldi dove a noi non viene assolutamente nulla cioè il discorso sportivo e quindi il tifoso e tutto il resto è resettato noi siamo le ultime ruote del carro tanto quanto la squadra c'è la parte squadra campionato competizioni diventano semplicemente il peso l'Alfredo declinato in mille maniere diverse e tutto quello che conta è il cash che entra attraverso ogni altro tipo di espansione e abbiamo spiegato anche come ho provato a spiegare come il risultato sportivo non abbia questo grande impatto sulla chiusura degli accordi commerciali chiudono comodamente anche se arrivano ultimi se retrocedono perché si ragiona su un concetto quasi di franchigia cioè si ragiona se tu vedi il cappellino dei Lakers da footlocker tu lo compri indipendentemente dal fatto che la squadra sia al top dell'NBA e della sua della sua confederation oppure no cioè lo prendi a priori ma tu hai detto una cosa molto importante che io pregherei gli amici milanisti dell'ascolto che invocano di arrivare ultimi in classifica di farsi una maglietta con scritto quello che ha detto Enrico adesso cioè anche se arrivassimo ultimi loro non dico che sarebbero contenti ovviamente perché comunque una percentuale di perdita ci sarebbe però riducono il montengaggi ma loro sanno già che non arrivi ultimi però c'è un'altra cosa da dire attenzione anche la Red Bull è una macchina da soldi sì ma è una macchina da soldi la cui finalità non è la vittoria ma ogni squadra di calcio è una macchina da soldi assolutamente però anche il Borussia Dortmund fa questo tipo di politica poi una volta ogni dieci anni vince uno scudetto e una volta magari ogni dieci anni va in finale di Champions come poteva succedere a noi l'anno scorso poteva essere una congiuntura astrale di quel tipo sì certo quindi è il modello che è sbagliato cioè il modello è un modello che non può appartenere al Milan ma tornando alla dura realtà io credo che su questo sai che sono meno d'accordo cioè il discorso che non può appartenere al Milan è relativo non può appartenere al blasone del Milan ma può appartenere deve noi dobbiamo assolutamente trovare un modello funzionale per il Milan di oggi e per primi dobbiamo capire che noi siamo un'altra bestia adesso siamo tutta altra cosa e proprio in virtù di questo se tu continui a ragionare sul discorso del blasone sperperi come galliani dell'ultimo periodo oppure sperperi perché pensi che devi prendere un certo nome e allora ti prendi giocatori a fine carriera che non servono a niente oppure sperperi perché lavori sui 15-20 milioni di 100 milioni magari anche di una cessione dolorosa tu li vai a spendere in Musa o altri giocatori che non ti servono a niente oppure proprio presi a caso con i doppioni come abbiamo fatto l'anno scorso invece serve proprio lì un DS cioè l'unico investimento che veramente dovresti fare se vuoi questo tipo di sostenibilità che sarebbe anche ben accolta secondo me dal tifoso perché ci sarebbe un progetto perché avresti comunque dei risultati sportivi perché aumenteresti le variabili a tuo favore sicuramente se l'obiettivo fosse questo cioè se l'obiettivo fosse la vittoria a tutti i costi no ma sai il punto guarda allora porca miseria anche se non dovesse essere il loro obiettivo io dico ma fai lo sforzo di sistemare quella rottura di palle chiamata Alfredo la sistemi e per Alfredo non intendo più il tifoso intendo proprio la parte sportiva perché Alfredo ormai si è stesa tutta la parte sportiva che per loro è una rottura di palle e si vede dalla tempistica si capisce da un sacco di cose allora sistemala perché la puoi sistemare spendendo poco con intelligenza dici guarda sistemo questa rottura di palle micidiale quindi tu dici con una zeppa clamorosa che si chiama DS che mi fa un mercato con i soldi che gli dico prendo uno bravo che faccia quella roba lì prendo proprio un valorizzatore mi va a prendere il giocatore in Sud America che costa 5 milioni che poi viene qui ed è Lautaro Martinez un domani questo però fa riferimento sempre al nostro desiderio cioè tu mi stai parlando di un compromesso no 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 sto dicendo togliti togliti tu società è un discorso di intelligenza di pragmatismo se sai che quella roba lì è una rogna è un'infiltrazione d'acqua se sai che dopo un po' quella roba lì ti fa una perdita e quella perdita può essere la contestazione i fischi come ti inquadrano lo stadio vuoto cioè quella rottura di scatole che tu non vuoi avere perché sei ma non c'è non è detto che non ci sia però non è detto che non ci sia sempre grazie non è manco iniziato il campionato però aspetta un momento per ora non c'è ma perché per ora il lavoro fatto dai nostri dirigenti è considerato un lavoro positivo cioè quando è stato rimosso il vecchio management e sono stati incaricati questi nostri attuali dirigenti di fare un lavoro evidentemente per la proprietà quel tipo di lavoro da un punto di vista ovviamente numerico non da un punto di vista sportivo ma da un punto di vista numerico che è quello che loro guardano è stato un lavoro positivo ma noi non possiamo fargli cambiare idea cioè non possiamo far cambiare idea rispetto a quello di guardare dei valori no però poi togliergli alibi siamo noi a creare alibi alla società e qui entriamo nel mondo del punto di vista quindi io e te siamo i due negativi sì scusami sì no no certo noi siamo il peggio del peggio ma nel nostro peggio c'è una cosa da dire un direttore sportivo che arriva accetta le condizioni poste dalla società dipende è chiaro che se tu vuoi giuntoli che può andare in una squadra più importante con maggiori ambizioni non viene da noi è chiaro che se vuoi Sartori evidentemente non viene ma a parte che Sartori stava al bolo stava al bolo voglio dire si può tranquilla si poteva prendere ma ci sono i bravi ci sono quelli bravi che non devono essere che non siano necessariamente i tirocinanti tipo Massara ci sono quelli bravi li paghi possono essere anche stranieri li paghi c'è chi fa bene questa cosa qui nel mondo ci saranno li cerchi santo cielo cioè sei un manager sei un mega manager però tu mi insegni una cosa l'hai sempre detto dove destinano le loro risorse principalmente ma è solo per toglierti la rottura di palle allora perché altrimenti ma loro non interessa perché hanno 35.000 abbonamenti già sottoscritti hanno evidentemente merchandising che si vende vendono il costume da bagno nel mino ma loro non fanno i soldi su quello lo sai che non fanno i soldi non lo fanno su quello ma quello crea come dire crea un movimento l'immagine l'immagine che poi alla fine a loro basta però a un certo punto a un certo punto questa è l'immagine che tu non mi sto difendendo no 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 è comprensibilissimo il tuo ragionamento anzi è quello che ci viene rinfacciato da chi ti alza lo scudetto dei 35.000 abbonamenti in prevendita cioè non è quello sono gli alibi adesso ad oggi poi arriveranno sempre gli alibi successivi che saranno Emma aspetta il raduno Emma poi aspetta la fine del mercato poi aspetta di vedere come iniziano a giocare tutto però a un certo punto si sgretolano anche per i più ottimisti se la stagione non prende la direzione sperata poi c'è chi ci spera c'è chi non ci spera c'è pure chi gufa eh guarda che è pazzesco quello che c'è il livello di divisione è pazzesco fanno parte tutti è certo c'è fa parte città di questa cosa giusta non è da catalogare il tifoso milanista però c'è come dire un'intensità diversa ovvero quelli di cui parlavi tu adesso dell'aspettiamo il 9 aspettiamo il fine del mercato no aspettiamo Natale ma no aspettiamo Maggio sono quelli che poi alla fine arrivano a Maggio secondi a 20 punti dalla prima fuori dalla Coppa Italia e fuori dalla Champions League che dicono è stata una buona stagione però perché perché c'è ancora una prossimità rispetto allo scudetto corta su questo non c'è dubbio più passerà il tempo più si allontanerà la vittoria e più quest'epoca diventa una banter su questo non c'è dubbio ok è semplicemente che la chiami esatto tu la chiami diversamente adesso non la chiami banter questa ma tra tre anni questa la chiami banter se non hai alzato nessun trofeo non solo e saranno non tre anni ma sei anni sì cioè nel senso l'argenteria buona ormai è poca e bisogna metterla anche in una teca dove si conservi e quindi il tempo a disposizione però c'è anche qui un altro fattore un'altra discriminante noi non sappiamo quanto tempo rimarranno questi quindi può essere che i loro siano diversi però io credo che serva prepararsi cioè io non sposo per una volta su questo sono pessimista poi sul sul resto c'è realismo che può essere da altri chiamato in una maniera o in un'altra sul fatto che loro vadano via nel giro di poco e dico loro perché per me loro non è uno Redbird ma il problema grosso è Elliot è il vendor il problema grosso ovvero quello che in qualsiasi momento se lo può riprendere in Milan è quello di cui non ti liberi perché se Redbird allora se Redbird compra ed Elliot sparisce sempre che l'accordo preveda la sparizione di Elliot e non la permanenza di Elliot perché si potrebbe trovare un comodo accordo dove Elliot continua ad essere dentro allora in quel caso tu devi sperare punti tutto su Redbird perché a quel punto sai che Redbird non vende l'anno dopo se è tolto il debito quello va dritto avanti perché il suo programma è quello di consumarti fino a che lui non ha finito fino a che sei sazio vuoi un'agenziana gradisci un amaro ti porto anche qualcosa per ruttare cioè capisci a quel punto diventa vuoi il conto se invece torna ad Elliot tu riparti da capo cioè questa cosa qui è una una spirale non te ne liberi facilmente non te ne liberi facilmente perché non è detto che l'intenzione loro sia quella di vendere al tipo che arriva con due miliardi in mano forse ma intanto devi trovare uno che arriva con due miliardi in mano dopodiché deve andare bene non solo a Redbird ma evidentemente anche ad Elliot certo ma tu lo sai perché siamo in questa situazione cioè il focus è sempre quello da quando Elliot è arrivato e non sto parlando del 2017 il focus è sempre quello l'edilizia lo stadio è lo snodo cruciale ma infatti io non credo che Scaroni sia uno che ti togli facilmente perché Scaroni che è quello che ha maggiori interessi sull'area sull'edilizia sulla costruzione vorrà arrivare a costruzione sai quanto gliene frega di vendere ma questa tu sai meglio di me e dare a un altro certo ma di impacchettare tutto ma tu sai meglio di me quanta interconnessione ci sia tra Elliot lo si lo si vede nel passaggio dei dirigenti lo si vede in questa cosa qui quindi è più di un creditore debitore no il passaggio su questo ho fatto chiarezza e il fatto che ci siano espressioni di Elliot dentro il CDA è un obbligo è un'obbligazione del vendor loan quindi su questo non ci sono cavoli cioè anche se Redbird fosse stato completamente contrario a prescindere quindi non avesse speso le parole al miele per i dirigenti di Elliot sulla continuità anche sono talmente bravi che li continuiamo a tenere sarebbe stato comunque così anche se fossero stati appunto con i mitra puntati poi magari stanno con i mitra puntati di tutta circostanza non è quello però la continuità è evidente per mille altre cose è evidente nel momento in cui Scaroni viene preso e portato dentro Redbird è evidente nel momento in cui una bandiera tra virgolette del Milan viene presa e portata dentro Redbird cioè più vedi questa migrazione verso Redbird e più capisci che stanno togliendo il nome Elliot ma lo stanno togliendo soltanto dal cartellino che sta fuori dalla porta ok di fatto poi no per tornare poi al tema del mercato per legare questo discorso al tema del mercato perché dico che non so non so quanto tempo rimarranno perché alcune delle operazioni mi sembrano più delle operazioni non dico da instant team perché no perché l'instant team si fa con gente forte forte davvero ma non un lavoro in prospettiva quindi come dicevi tu l'assunzione di un direttore sportivo che programmi una cosa perché una squadra non può vincere da un anno all'altro una squadra può vincere se c'è un progetto e soprattutto se c'è una società forte alle spalle ma quel progetto si costruisce attraverso un percorso fatto anche di conoscenze di una certa cosa che mancava anche ai nostri anche politica è politica noi siamo politicamente forti ma dal punto di vista edilizio sì esatto costruiamo solide noi lì siamo siamo veramente world class cioè da quel lì siamo veramente gli apicali finanziari sono il massimo del massimo peccato che a noi allora loro ci sarà da dei soldi cioè dateci pagateci allora sti cavoli della squadra iniziate a farci dei bonifici a tutti tra l'altro faremo anche dei video molto più accondiscendenti ma certo ma insomma al di là di questo vedi facciamo un ragionamento non voglio parlare della nazionale ma facciamo un ragionamento sul tema politica cioè noi ragioniamo noi tifosi ragioniamo a questo livello quindi ragioniamo sul milan sul mercato sui giocatori sull'under 23 sul settore giovanili sul bivaio sull'allenatore sulla tattica eccetera poi c'è tutta la parte invece quella importante che ragiona a questo livello e questo livello della politica delle conoscenze dei contatti delle trame di marotta che non voglio tirare in ballo diciamo per per prendere in giro ma per indicare che serve quella componente chiaro noi non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo non abbiamo una rete di conoscenze noi abbiamo un capo scout messo a fare il finto direttore sportivo un contabile di altissimo livello messo a fare responsabile dell'area sportiva e quindi come possiamo pensare che si facciano delle cose in prospettiva per creare un progetto mi riesce difficile senza voler sempre dar conto ma mi riesce difficile caro Rinaldo grazie siamo diciamo alla fine di queste riflessioni su cui speriamo che adesso che il pubblico anche inizi a riflettere a dire la sua nella sezione commenti intanto vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale di Rinaldo perché se non lo seguite secondo me siete fessi ve lo dico mi dispiace dovervelo dire però secondo me sbagliate perché a livello di non solo linguistico ma anche a livello di analisi guardatevi intorno e poi capite perché è importante seguire Rinaldo detto questo speriamo bene intanto speriamo nel ritiro speriamo nell'allenatore fantasma Fonseca speriamo in Royal We Cheese siamo pieni di citazioni cinematografiche e visto che deve vincere il cinema allora buon 4 luglio non ai nati il 4 luglio ma ai nati il 4 luglio nel senso di americani Gerry tanti auguri eh